Se la Cina non è più solo alla ricerca di grandi prodotti del Made in Italy da importare, ma anche di know-how per produrre in modo più ecosostenibile, come accade nell'agricoltura e nel vino per una precisa scelta del governo della Repubblica Popolare Cinese, che ha inviato funzionari del distretto di Guangzhou a Montalcino per imparare anche da piccole realtà come l'azienda biodinamica San Polino. Sì, sì. Io penso sia molto importante perché loro sono soprattutto interessati a produrre vini di qualità, perché hanno avuto dei problemi in Cina, hanno aumentato la produzione del vino tantissimo, però la qualità era bassissima e quindi adesso hanno deciso, il governo centrale ha deciso di aumentare, di passare da alta quantità ad alta qualità e quindi hanno pensato che Montalcino potrebbe essere il posto buono per poter fare questo.